Un attimo le slide, che ce le ho online e non riusciamo ad andare un attimo in internet, vi iniziamo un attimo senza slide. Allora, il talk mio è basato su Android, che vediamo quanta gente sa di cos'è Android. C'è qualcuno che sa cos'è Android? Abbastanza. Allora, intanto che si muore il sistema, diciamo, Android è stato, volevo farvi vedere come è nato, come è cresciuto e come probabilmente si evolverà, sia lato Android che lato mobile in genere. Partiamo intanto dalla nascita. Allora, Android è nato grazie all'OA, che è praticamente un acronimo che sta per OpenSet Alliance, che è un'associazione di 35 membri che si sono associati appunto per cercare di realizzare degli standard aperti per dispositivi mobile, non necessariamente telefonini ma anche tablet e cose, comunque qualsiasi cosa che centri con il mobile. L'OA, appunto, che stavamo dicendo, è formata da 35 membri e questi 35 membri sono suddivisi su alcuni settori che comunque centrano con il mobile. E si passa dai produttori di software come Google, eBay, Nuance e altri, ai produttori hardware, quindi HTC, Hatch, LG, Samsung, eccetera, per poi passare infine a quelli che poi vendono e ci fanno le proposte commerciali per vendere i device tipo Vodafone, Team, T-Mobile per quanto riguarda l'America e altri di Carrier Mobile. Quindi, come poi vedremo sulle slide, è difficile che Android vada a fallire proprio per il fatto che, essendo questi 35 membri top del loro settore, basta pensare a Vodafone come a Google o HTC e altri produttori di hardware, è difficile che la catena dal produttore a quello che vende si spezzi proprio perché tutti quanti, questi 35 membri, sono interessati a portare avanti Android, a portare avanti e pubblicizzare Android perché loro stessi sono dentro, appunto, l'OA. Sei uscito? Allora, intanto che Simone si continua a sistemare, praticamente il primo prodotto che è stato realizzato, appunto, da questi 35 membri è stato il T-Mobile G1, che era un dispositivo venduto inizialmente in America, che era un dispositivo, diciamo, di fascia medio-alta, stiamo parlando di novembre 2008, e questo dispositivo praticamente montava la prima versione di Android. Come ho scritto poi sulle slide, la vendita e la produzione di questo dispositivo ha creato un fatturato di 7 miliardi di dollari ad HTC, solamente in due mesi. Questo ha maggior ragione per dimostrare quanto ho detto prima, cioè del fatto che l'OA spinge per vendere questi dispositivi. Quindi HTC, che ha voluto fare questo primo esperimento vendendo il T-Mobile G1, ha avuto il supporto sia di Google, ovviamente, per la piattaforma Android, sia di T-Mobile per quanto riguarda l'offerta commerciale da fare degli americani, e sia di tutto quanto il resto del corredo dell'OA. Invece, a noi, in Italia, il T-Mobile G1 è arrivato solamente ad aprile 2009, quindi circa cinque mesi dopo. È stato commercializzato grazie a Tim, che ha avuto questo interesse, ovviamente essendo anche lui parte dell'OA, ha avuto questo interesse nel commercializzare questo device, e però Tim ha fatto la puttanata del secolo, come sempre qua in Italia siamo sempre più bravi, e ha portato il T-Mobile G1, non con Android nativo, ma ha preso l'Android, ci ha troncato tutte le parti di sincronizzazione con i server di Google, con il calendario, con Gmail, e ce l'ha sputato a noi bravi consumatori italiani. Adesso, visto che ci siamo, Ah, mi sono dimenticato di presentarmi. Io sono Andrea Bacega, sono di Jesolo, sono un sviluppatore web da molto tempo, e Android, quindi, dal marzo 2009, sono co-creatore di Androidiani.com, che è praticamente la community italiana più grande per quanto riguarda Android, non sulla programmazione, ma anche per quanto riguarda proprio l'aspetto compro quel cellulare, non compro quel cellulare, che tipo di firmware ci metto, eccetera. Qui è quello che abbiamo detto fino adesso. Questo è il T-Mobile G1, quello che abbiamo parlato fino a poco tempo fa. Ecco. Quindi, alla nascita, praticamente, abbiamo già finito. Ah, scusate. La prima versione di Android, purtroppo, cioè, già portava delle novità con sé. C'era il multitasking, che per esempio iPhone ha visto solamente negli ultimi mesi, c'erano altre novità, come l'aumento di reality, che dopo andremo a parlare meglio. Insomma, c'erano ancora numerose novità, però, come prima versione, portava numerosissimi bug, e il più eclatante era che se io prendevo e mandavo un messaggio memorosa e sul campo del testo scrivevo reboot e scherzavo invio, il cellulare si riavviava. Era bellissimo, perché poi questo ha permesso, siccome il campo messaggi non si sa perché, c'era un pipe diretto con la bash, ha permesso alla comunità di cominciare a sviluppare Android autonomamente e quindi la comunità ha cominciato a sviluppare dei firmware propri per questi dispositivi e da qui proprio è iniziato tutto quanto il lambaradam, diciamo, di quello che riguarda adesso la comunità Android, dove praticamente si vede più attiva la comunità Android che quelli che vanno a programmare realmente Android. Cioè, praticamente programmano meglio la comunità open source che Google, eccetera, eccetera, quelli che dovrebbero in realtà sviluppare Android. Qui invece parliamo, passiamo alla crescita. Come dicevo prima, nel 2009, che è stato l'anno, diciamo, un po' di boom di Android, anche se in realtà poi il 2010 è stato un po' meglio, sono stati commercializzati circa 30 dispositivi diversi di Android. Come dicevo prima, il primo commercializzato in Italia è stato l'HTC Dream, che poi è stato sbloccato, ho contribuito anch'io a sbloccarlo. Questi invece sono stati, sono i dispositivi che sono stati venduti in Italia nel 2009, che sono più o meno in ordine di arrivo, diciamo. Da 30 passiamo a 7, quindi non sono arrivati tutti quanti in Italia. Il 2010 invece è stato un anno un po' più intelligente, sia per quanto riguarda la piattaforma in sé, sia per quanto riguarda il marketing che Google e Loa ha fatto per promuovere la piattaforma. Nel 2010, infatti, Google ha prodotto un cellulare, che si chiama Google Nexus One, magari qualcuno lo conosce, e che era un terminale effettivamente di altissimo livello, perché aveva un processore da 1 GHz, era uno dei primi terminali ad avere un processore così potente, 518 MB di RAM, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, tutte le puttanate che ci possiamo mettere dentro un terminale, e un costo relativamente basso, 450 euro. Se pensiamo che l'iPhone 3GS ha delle specifiche, prendo l'iPhone, ma non perché prendo l'iPhone, comunque, se pensiamo che l'iPhone 3GS costa 700 euro, 600 euro, ha delle specifiche hardware molto minori, il costo effettivamente è relativamente basso. Un mese dopo della presentazione del Google Nexus One, Google decide di indire questa campagna di marketing, dove praticamente tutti gli sviluppatori che avevano prodotto delle applicazioni per Android e che avevano avuto un discreto successo delle loro applicazioni, riceveranno un Google Nexus One in regalo. Quindi, praticamente, Google ha cominciato a regalare questi cellulari agli sviluppatori come segno di ringraziamento di aver contribuito alla crescita e allo sviluppo di Android in sé. E questo fatto qui, questa campagna di marketing, si è rivelata vincente perché moltissimi sviluppatori di Android, scusate, iPhone, che prima non cagavano neanche di striscio Android, cominciavano a interessarsi ad Android, perché dicevano, beh, di qua devo pagare e non ricevo niente, di là invece mi regalano le cose. Quindi, tantissimi sviluppatori, con questa scusa, si sono avvicinati moltissimo alla piattaforma Android e poi, non so se l'ho scritto qui, Google ha creato questi tipo workshop dove direttamente i produttori di codici a Google andavano in giro per il mondo presentando le novità di Android, eccetera, eccetera, e andando parlando a faccia a faccia con gli sviluppatori per vedere di creare un feeling, una linea diretta tra quelli che sviluppano Android nativamente, quindi Google, e quelli che sviluppano le applicazioni per Android. E anche in queste sedi, Google ha deciso di regalare questi terminali agli sviluppatori presenti. Ok, parliamo un attimo della crescita. La crescita. Questa è un po' una slide farlocca, nel senso che dice niente tutto. Della versione 1.0, quella con cui è nato il T-Mobile G1, Google ha creato una nomenclatura simpatica per le future versioni di Android. Ogni futura macro versione di Android avrà il nome di un dolciumer ordinato in ordine alfabetico. Infatti, in questa slide che vediamo dopo, che può avere poco senso, vediamo l'anno più o meno in cui è stata pubblicata la versione e il nome della versione. Vediamo Cupcake, Donut, Eclair e Froyo. Però questa slide l'ho fatta per farvi capire quanto sia cresciuto solamente in un anno e mezzo la piattaforma Android. A marzo-aprile 2009, che è la prima riga della tabella, probabilmente non si vede bene, Android era ancora parecchio cerbo, tant'è che questa versione ha introdotto una tastiera virtuale, cosa che prima non c'era. Io avevo il T-Mobile G1 e per chiamare dovevo aprire la tastiera fisica, digitare i numeri sulla tastiera, perché non esisteva nessun programma sotto che mi presentasse una tastiera da scrivere, insomma. Quindi siamo passati da avere una tastiera virtuale ad avere a giugno-luglio 2010, cioè dopo neanche un anno e mezzo, avere a disposizione per il sviluppatore una libreria di push gratuita, avere le speech recognition, cioè io parlo al cellulare e lui capisce cosa sta dicendo e interagisce con me, avere applicazioni su SD card senza contare quello che c'è stato in mezzo, perché per esempio a fine estate 2009, quindi pochissimo tempo dopo la tastiera virtuale, abbiamo il supporto alla multipla risoluzione, il supporto a VPN, text-to-speech, poi abbiamo possibilità di inserire account multipli su Google, HTML5 su browser, che Internet Explorer ancora non sa cos'è HTML5, e altre cose, e altre cose veramente interessanti. Quindi solamente in un anno e mezzo abbiamo avuto, Android ha avuto questo exploit di novità che non è assolutamente indifferente, tant'è che nell'ultima versione di iPhone, io parlo di iPhone perché effettivamente era quella che fa tendenza, è quella che dicono che innovi, Apple, però effettivamente nell'ultima versione dell'iPhone, l'iPhone 4G, moltissime funzionalità vengono riprese dall'ultima versione di Android, quindi non è più Android che insegue iPhone, ma è iPhone adesso che segue Android. Allora, parliamo un attimo del market. Allora, l'Android market praticamente è l'applicazione messa, anzi la piattaforma messa a disposizione da Google, dove gli sviluppatori possono pubblicare le loro applicazioni in modo che vengano distribuite a chi è interessato a scaricare le loro applicazioni. E come dicevamo prima con il fatto del marketing che Google ha fatto vendendo e regalando questi cellulari Google Nexus One, Google ha fatto appunto molto per incrementare il numero di sviluppatori che erano interessati ad Android con il conseguente aumento delle applicazioni disponibili nel market. Adesso voi vi domanderete, ma ha funzionato questa campagna di marketing? Se guardiamo questo grafico, che probabilmente non si leggerà assolutamente dalla vostra postazione, il grafico fa più o meno così. E voi vi direte, sotto c'è la linea temporale e sopra c'è il numero di applicazioni. Voi direte, bene, quello là è il numero delle applicazioni che sono state vendute, no scusate, che sono inserite nel market in quel tempo. Quindi per esempio, la prima dicitura dice luglio 2009, 1669 applicazioni. E quindi come vedete, la linea segue un andamento esponenziale e quindi già sarebbe bene. Però in realtà non è così. Cioè non sono il numero di applicazioni inserite nel market. Queste sono il numero di applicazioni nuove che ogni mese vengono inserite nel market. Quindi a maggior ragione la linea è esponenziale, perché si passa da gennaio 2010 avere 5600 applicazioni nuove a gennaio ad averne a luglio 2010 18653. Quindi adesso il trend di crescita è circa di 20.000 applicazioni nuove ogni mese nel market che è direttamente, direi, un discreto successo per quanto riguarda le campagne che hanno fatto Google e Loa in generale. Adesso passiamo un attimo a parlare non propriamente del futuro di Android ma propriamente del futuro del mobile. E partiamo un attimo dal presente e anche dal passato. Se ci pensiamo, 10 anni fa internet era solamente per PC. Cioè io quando pensavo internet non pensavo di avere un tablet che ne so, un altro dispositivo. Io lo usavo solamente, cioè io dovevo andare in internet usavo un PC. Ieri, ieri nel senso pochissimo tempo fa, internet è arrivato anche sui cellulari. Console, come per esempio la Playstation 3 che ti permette di interagire con altri interlocutori. Navigatori come TomTom che per esempio scaricano da internet informazioni sul traffico e sul meteo. E altri dispositivi. Oggi, mi dispiace che non ho la fonte però è così, si verifica un fenomeno mai visto prima. Alcune persone in giro per il mondo accedono per la prima volta ad internet usando il loro cellulare anziché un PC. Cioè succede proprio esattamente il contrario di quello che si pensava a tempo fa. Prima si pensava internet vado col PC adesso in alcune situazioni probabilmente anche di disagio economico alcune persone nel mondo utilizzano per la loro prima volta internet sul cellulare che invece sul PC. Quindi non esattamente cioè non solamente android ma diciamo sul cellulare. il domani ovviamente nessuno lo sa però sicuramente il mobile sarà uno dei mercati più proficui e anche quindi più tartassati diciamo da quelli che vogliono fare i propri comodi. Rifacciamo un'altra piccola riflessione sul futuro. Cinque anni fa forse qui ho sbagliato forse è meglio dire dieci anni fa i telefonini erano con LCD a segmenti verdi bruttissimi e un cricetto come il processore se ce l'avevano perché poi se ne è che non ce l'avessero. Due anni fa invece sono arrivati i primi smartphones possiamo dire anche tre anni fa con GPS bluetooth e alcuni wifi quindi si è già cominciato a dire la gente potrebbe essere interessata a utilizzare internet sul proprio cellulare perché se ci si metteva il wifi vuol dire che effettivamente qualcuno poteva usare internet sul proprio cellulare. Quindi due anni fa è cominciata diciamo la rivoluzione. Oggi gli smartphones vengono rinominati super phones e hanno tutti tutti diciamo quelli là con Android equipaggiati con Android almeno GPS bluetooth wifi UMTS accelerometro magnetometro bussola e chi più ne ha più ne metta. Cioè oggi la tendenza il trend è quello di inserire sempre più sensori funzionalità all'interno del proprio cellulare per arrivare a quello che io ipotizzo sarà il futuro. domani i cellulari avranno una potenza di calcolo paragonabile ad un comune pc e sarà il dispositivo più usato ed intimo che l'uomo possa avere perché se ci pensate che io almeno io che sono fanatico dei cellulari uso il cellulare 24 ore su 24 mando i messaggi alla mia ragazza leggo le email rispondo alle email controllo il mio stato in banca quando devo controllare il mio stato in banca tengo informazioni su cosa devo fare cosa non devo fare calendario io sono completamente ormai dipendente dai cellulari perché riesco a ottenere tutto quello che potrebbe servirmi passando dalla semplice messaggistica o chiamata alla sincronizzazione con i task che devo fare piuttosto che alla navigazione satellitare morto? no cosa è morto? questo mi sa che non riesco a farvelo vedere perché la connettività è un po' quello che è allora il talk di oggi si chiamava Android an open platform no open source non mi ricordo qualcosa e in più c'era una dicitura sotto che diceva un progetto sperimentale per la prevenzione dei terremoti per la previsione dei terremoti come se avete fatto caso questa slide è un po' differente dalle precedenti e sotto qui riporta un logo di un'altra conferenza che è stata fatta e devo ringraziare altre due persone che qui non possono essere con me che sono Danilo Riso e Marco Rizzo che insieme a loro abbiamo sviluppato questo sistema che adesso andremo a trattare allora è possibile prevedere secondo voi i terremoti con le moderne tecnologie? vabbè prevedere non capire quando è successa su twitter non ti dicono sta per il successo del terremoto su twitter ti dicono è successo il terremoto ah ok arriva prima al twitter di loro allo stato attuale la scienza ha identificato alcuni fenomeni che si manifesterebbero prima dei terremoti questi fenomeni scientificamente accertati sono l'emissione di gas radon e qui non voglio aprire nessun nessun dibattito dal terreno l'inanziamento della temperatura dell'aria è aberrazione del campo gravitazionale e del campo geomagnetico se vi ricordate prima se riesco qui ho parlato che tutti i dispositivi android hanno bluetooth gps wifi mts accelerometro magnetometro e bussola praticamente una miriade di sensori qui nella slide che vi ho fatto vedere se riesco a andare avanti parlo di aberrazione del campo gravitazionale e del campo geomagnetico capite bene che abbiamo già un sensore che ci può aiutare a vedere se ci sono questi cambi del campo geomagnetico quindi lo scopo del progetto non era in realtà sviluppare un sistema che potesse trovare deterministicamente quando sta succedendo un terremoto ma era provare che è possibile farlo qui parlo sempre di come si possono prevedere allora prima di andare sul sito vi spiego la nostra idea la nostra prima idea è stata quella di un amico di dire beh noi abbiamo un magnetometro sul nostro cellulare perché non vediamo perché non vediamo quanto vale il campo magnetico e poi lo confrontiamo però la prima domanda è stata con cosa lo confrontiamo dobbiamo avere un valore cioè se io qui dico controllo con il mio cellulare c'è scritto 10 del campo magnetico devo poter dire come faccio a sapere che quel 10 è giusto come faccio a sapere se qui effettivamente dovrebbe essere 10 o dovrebbe essere 15 allora la prima cosa è stata quella di cercare un modello matematico che ci dicesse in questo punto della terra oggi a questa altitudine il campo magnetico rilevato dovrebbe essere di x una volta trovato questo che ci siamo abbiamo fatto uso di un modello matematico sviluppato dalla NASA abbiamo detto bene adesso possiamo creare un'applicazione che controlli il campo rilevato dal cellulare con il campo magnetico datoci dal modello però il problema che probabilmente avrete già intuito è che se io ho il cellulare vicino alle chiavi del telecomando cosa succede? che il campo gravitazionale no il campo magnetico è vicino alla fonte magnetica e cambia quindi la nostra idea è stata questa idea è stata subito scartata per questo motivo appunto perché intanto un cellulare si può rompere e non è che possiamo dire si può dire ogni volta che questo campo magnetico cambia vai fuori di casa quindi l'idea è stata subito scartata l'idea secondaria è stata quella di prendere e dire perché non prendiamo usiamo una rete di cellulari confrontiamo il valore del campo magnetico per ogni cellulare della nostra zona sappiamo che tutti qua abbiamo un cellulare android che con questo programma è installato confrontiamo il valore facciamo una media ponderata diciamo del dispositivo e vediamo se effettivamente c'è qualcosa che cambia insomma quindi anche questa idea è stata leggermente vociata perché abbiamo detto ci sono alcuni dispositivi essendo android multipietaforma ci sono alcuni dispositivi che danno un errore più ampio e alcuni dispositivi che danno un errore minore e quindi non avevamo modo di dire ottenevamo traccia sempre dei dispositivi android con migliori e altre facciamo una media ponderata di questo tipo ma non era neanche il caso perché per esempio il Nexus One che rileva meglio di altri cellulari come Motorola o Milestone potrebbe rompersi anche quello quindi non era il caso di usare questo tipo di metodo per prevedere i telemoti quindi abbiamo detto e abbiamo scoperto poi che questi cambiamenti del campo magnetico sono non sono adesso c'è adesso non c'è poi c'è sono sono molto graduali chi probabilmente qui magari studia un po' di geologia magari ne sa meglio di me io magari sto dicendo delle puttanate ma però questo è quello che mi è stato detto e allora abbiamo detto invece di prendere i cellulari fare una media a questo istante prendiamo i cellulari facciamo una media e vediamo se il trend cresce per esempio se ci sono 100 cellulari che alle 11 rilevano un errore dal modello matematico di medio di 10 e continuano a crescere allora probabilmente qualcosa succederà cioè se tutti quanti cellulari 100 cellulari supponiamo in un raggio di 300 km dicono a quest'ora ho questo errore a quest'ora ho questo errore più qualcosa in più di prima e tutti quanti confermano o diciamo il 90% confermano questo trend di crescita o di decrescita perché anche quello si parla allora probabilmente qualcosa succederà magari non succederà un terremoto ma qualcosa sta cambiando insomma non è normale che tutti quanti si discostino in livello graduale tutti i dispositivi no? allo stesso momento adesso se riesco un attimo solo che se no non ce la faccio sperando che internet ci aiuti ecco questo qui che purtroppo si vede malissimo probabilmente non c'è nessuno che riesce a leggere praticamente questa è la mappa in tempo reale della gente che manda i suoi dati GPS delle coordinate GPS del campo magnetico a questo service web che non fa altro che raccogliere in maniera anonima il tipo di device la posizione geografica e scusate la posizione geografica e il campo magnetico ovviamente se no non ha senso qui sotto è che non riusciamo a vederlo e probabilmente non si riuscirà a vedere neanche dopo c'è una tabella che dice il tipo di cellulare che qui vedete apparire gli assi X Y Z la differenza con il modello matematico eccetera eccetera quindi questo sistema era già stato messo in piedi funzionava abbiamo avuto anche delle richieste da alcune università per continuare il progetto però poi per mancanza un po' di tempo e un po' dei ricercatori che non ci vorranno dare i dati per confrontarli perché ovviamente i cellulare non sono stati fatti per misurare un certo tipo di campo magnetico e soprattutto con quella precisione che servirebbe per avere una cosa deterministica quindi avevamo bisogno anche di un database di valori sui quali confrontare ovviamente non è che potevamo lanciare sul mercato questo tipo di applicazione ovviamente in modalità gratuita dicendo che sarebbe stata la soluzione a tutti i problemi quindi un po' per mancanza di tempo un po' per mancanza di dati e un po' perché non c'è stato tutto questo interesse che avevamo preveduto abbiamo deciso di abortire questa idea ok porca puttana allora questo qua invece se c'è se c'è ancora tempo parlo se no ok questo qua invece è un progetto che ho iniziato da pochissimo e funziona grazie alle ultime librerie che google ha messo in piedi praticamente google ha rilasciato in maniera gratuita uno sistema che praticamente non so se sapete come funziona android però praticamente voi siete costantemente sincronizzati con gmail se vi arriva un email è più probabile che la vedete prima sul cellulare che su gmail perché c'è una connessione persistente che non scambia traffico con i server di google e questa connessione scusate questa connessione quando ci sono dei dati google l'attiva anzi non l'attiva perché è già attiva manda dei dati e questi dati vengono poi ricevuti dal dispositivo che poi ne fa quello che vuole quindi la mia idea è stata siccome mando un casino di messaggi sms al giorno e poi è stata rielaborata la mia idea ho detto perché non faccio non uso questo sistema che è stato messo appunto da google free perché non uso questo sistema per creare sul browser un programma che io praticamente ho tutti i contatti sul web scrivo scrivo il messaggio il messaggio viene inviato ai server di google google rimanda il mio cellulare il cellulare va a riprendere il messaggio sul mio web service e manda il messaggio tutto questo casino qui che è riassunto su questa tabella che non si vedrà di sicuro sono cinque passi dove c'è il primo l'utente fa una richiesta al sito web il secondo passo è il sito web fa una richiesta al google server che poi l'ha inoltre al cellulare che va il cellulare va a richiedere il dato completo al sito web che gli risponde quindi il cellulare manda il messaggio o quello che sarà perché poi vedete che non è solo per gli sms e alla fine l'utente dal browser che si suppone sia lo stesso del cellulare riceve la notifica che il messaggio è stato consegnato attualmente io ho parlato di sms ma attualmente questo sistema che ovviamente è iper in sviluppo riesce a mandare leggere e leggere sms da browser quindi se io ricevo un sms lo vedo direttamente dal browser non sapete che metto mano al cellulare riesce a richiedere la posizione geografica del cellulare supponiamo che per esempio vi siete dimenticati il cellulare in giro non sapete dove cazzo è oppure qua all'esca lo avete dimenticato è grande qua siete all'aperto potete richiedere la posizione geografica del device il device con questo schemino che vi ho fatto vedere prima google manda una richiesta al cellulare il cellulare attacca il gps se vede dov'è e vi risponde direttamente sul browser in modo che voi potete andarlo a vedere e questo dell'esca è uno scenario abbastanza ottimistico se vi inculano al telefonino potete sapere dov'è il tizio e andarlo a menare per esempio oppure si può vedere lo stato attuale del cellulare per esempio potrei essere interessato a vedere se il wifi è acceso il bluetooth è acceso il gps è acceso a che stato è la rete soprattutto a che livello è la batteria potrei accendere e spegnere il cellulare no scusate il cellulare accendere o spegnere la soneria perché per esempio l'avete dimenticato dentro casa non sapete dove è probabilmente è infilato dentro il cuscino del vostro divano quindi questo scenario cioè quello di richiedere la posizione geografica del device non funziona perché siete all'interno quindi non vi darà un'informazione utile e fortunatamente ve lo siete dimenticati in vibrazione quindi ce l'avete dietro cosa potete fare potete abilitare la vostra soneria chiamarvi e in questo modo sapete dove è il vostro cellulare se invece ce l'avete in vibrazione cercate che si troverà poi su questo sistema che come dicevo è ancora in sviluppo prevedo anche l'installazione da web di nuove applicazioni cioè io potrò controllare le nuove applicazioni e installarle direttamente dal web prevederò la possibilità di bloccare il cellulare da web nel caso vi sia stato rubato perché ovviamente se io controllo i miei dati bancari mando gli sms a persone importanti ci sono delle mail che non voglio siano lette è forse meglio che se me lo rubano blocco il cellulare blocco il cellulare magari cambio e reset tutta quanta la memoria quindi anche questa feature sarà implementata nel sistema e poi ovviamente potrei cambiare lo stato di sensori qui quelli che dicevamo prima wifi bluetooth GPS adesso non so se c'è un'altra ah sì eccola qua vediamo se si apre no un attimo solo ah sì questo schifosissimo layout che ho fatto che bello scusate un attimo vabbè è il bello della diretta che adesso non funziona vabbè praticamente volevo farvi vedere come funzionava in realtà come era possibile manovrare il mio cellulare che adesso non ho neanche idea dove si è finito direttamente da questo sito che adesso però non funziona un po' per connettività un po' perché è bello della diretta forse vediamo se riesco sì forse ci riesco sono riuscito ok allora qui è tagliato allora quello è il cellulare cioè la raffigurazione del cellulare io per esempio se qui scrivo e speriamo che la connettività me lo permetta per esempio mi tira giù tutti i contatti dal mio cellulare me li fa vedere lì io posso perché ovviamente adesso ho messo il mio numero di telefono però se mettevo Andrea Bacega era la stessa identica cosa posso a questo punto selezionare e mandare il messaggio questo con tutta la trafila un attimo che trovo il send questo con tutta la trafila di prima ci manderà questa notifica che mi dice all'utente browser il messaggio è arrivato a Google questo qua l'ultimo messaggio che avete visto è il cellulare ha ricevuto il messaggio da Google e ha inviato il messaggio quindi adesso non so dove è il mio cellulare però mi sono automandato un messaggio e con questo sistema vediamo se riesco a farvi vedere è che non ci vedo niente neanch'io con questo sistema in realtà le possibilità sono praticamente infinite perché per esempio questo è la lista di tutti i punti dove sono stato negli ultimi nell'ultima settimana praticamente quindi io volendo oltre a tenere traccia di dove vado e dove non vado posso anche vediamo se riesco come si fa vedete che la grafica ovviamente non è ancora finita qui alla fine c'è un bellissimo bottone che dice request new update che praticamente fa la stessa cosa dell'SMS solo che vado a richiedere al cellulare di dirmi dov'è la mia posizione geografica tutto qua questo è uno degli ultimi sviluppi che sto facendo e che credo che potrebbe essere utile a molte persone che magari sia per il fatto che dà la possibilità agli utilizzatori di sapere che cosa sta facendo e che cosa ha il cellulare sia per la possibilità di alzare e cambiare tutti quanti le impostazioni del cellulare per qualsiasi x motivo adesso non me ne viene in mente nessuno e sia per la possibilità di utilizzare effettivamente il cellulare senza obbligo di averlo in mano allora per chi non l'avesse sentito ha domandato se non è un po' pericolosa il sistema funziona ovviamente non so se non vedete ma è in HTTPS e non c'è di dire niente però solo io solo io posso comandare il mio cellulare perché quando io ho installato l'applicazione sul mio cellulare perché questo sistema funziona a doppia via c'è un'applicazione più c'è web service quando ho installato l'applicazione sul mio cellulare ho richiesto a Google un token che assicura che io ho quell'email là poi quando io mi logo da questa parte mi devo logare con il stesso username e password di Google su questo sito quindi solo chi ha il mio username e password di Google può interagire con il mio cellulare non è che non è che se voi vi scrivete potete colloquiare con il mio cellulare domandare dov'è la mia posizione eccetera eccetera ovviamente anche perché non mi starebbe bene insomma quindi probabilmente c'è qualche bug non è che l'ho sviluppato in tre settimane questa cosa qui quindi sicuramente qualche schifezza c'è indintro però l'idea è quella di non avere cioè di non esserci falle di sicurezza insomma aspetta che ce n'è un altro davanti dimmi no no vai 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 allora lui domanda la connessione con il cellulare come funziona allora in pratica diciamo prima che Android è sempre collegato è sempre in sincrono con i server di Google non so se qualcuno di voi conosce Gtalk ok Gtalk è installato di default sui device di Android ovviamente essendo di Google Gtalk tiene su una connessione persistente sia wifi che gprs cioè dipendentemente da come sei connesso lui devi essere beh ma se hai un cellulare Android devi avere per forza il traffico dati se no te ne prendi uno Windows Mobile perché la comunità di Android è proprio sincronizzazione Gmail sincronizzazione calendario hai tutto sincronizzato con il web quindi la mia idea è proprio quella di spostare tutta la funzionalità del cellulare qualora ti serva sul web sul cellulare sul cellulare dici perché serve avere potenza sul cellulare perché tanto sul cloud non è che cioè io questo progetto qui non l'ho fatto esattamente perché dico non voglio cioè perché non ho abbastanza potenza sul cellulare o per altri motivi l'ho fatto per comodità perché io quando devo mandare un messaggio mi rompe le balle prendere il cellulare digitare quindi questo sistema non è per deviare la potenza di calcolo da una parte o dall'altra è stato solo fatto con l'intenzione di avere più comodità non ha non ha altri fini cose poi c'è un'altra domanda del ragazzo laggiù la localizzazione scusa non ho capito niente ah giusto giusto sì 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 ah certo certo sì sì certo è che però il sistema che dici te lui dici c'è se sono tipo sotto una valanga il gps funziona comunque o si suppone che comunque il cellulare abbia una cella e tra l'altro è possibile anche la triangolazione tramite cella gsm che ha un raggio di un chilometro dipende poi dalla zona e si dice se tu sei sotto una valanga questo sistema potrebbe essere utile per per quelli che vogliono salvarti sapere dove sei perché se io ho il cellulare sempre con me posso mandare questo tipo di informazione al cellulare che lui mi ritorna e mi dice guarda che il cellulare è lì e quindi anche la persona da salvare è lì il problema però che come diceva sosteneva l'altro ragazzo prima adesso non mi ricordo esattamente quale che devi avere accesso a questo tipo di sistema cioè mia mamma per esempio non ha i miei dati di accesso a google quindi se io mi perdo sotto una valanga ce l'ho nel culo o gli do accesso a mia mamma a gmail e allora se mi perdo sotto la valanga che mai succeda allora potrebbe anche essere utile sotto quel punto di vista basta io ho finito penso se avete altre domande scusa se esiste già esiste sì 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 esiste una delle applicazioni tra l'altro io ce l'ho qui installata sul mio cellulare è che il problema della rete wifi qui praticamente io avevo bisogno di attaccarmi wifi direttamente sul mio portatile e quindi poi potevo comunicare direttamente usare il cellulare come mouse come potevo fare quello che volevo potevo usare la tastiera potevo fare quello che volevo infatti volevo comunicare con le slide appunto con tramite il cellulare però poi per problemi di wifi rete eccetera eccetera io non sono riuscito a farlo qui però esiste già cioè si può fare il contrario come per esempio se io mi sto guardando un film esistono delle applicazioni che tutti conosceranno vlc qua probabilmente no nessuno conosce vlc eh per esempio esiste un'applicazione che io posso comandare vlc tipo sono sul divano mi guardo mi attacco il portatile sulla televisione attraverso wifi mi attacco sul computer e con vlc vado avanti indietro alzo il volume ci sono tutte queste cose qui lato da cellulare a coso quello che era difficile a fare prima delle librerie di google era fare il contrario perché o si creava un server dove tu creavi questa connessione persistente e mandavi dati al cellulare quando ti serviva e dovevi gestire un casino di cose come la sicurezza dovevi incanalare il dato solo sul canale che ti serviva eccetera eccetera senza contare che poi il dispendio di banda è doppio perché ci sarebbero due due connessioni persistenti verso internet adesso fortunatamente è possibile appunto grazie a queste librerie di google che sono messe gratuitamente agli sviluppatori e che si possono fare queste cose qui utilizzando semplicemente la stessa connessione che usa google per comunicare col cellulare quindi adesso si possono fare anche queste cose qui che vanno da pc a cellulare basta beh io ho finito spero di avermi rotto le balle grazie a tutti